La professione è fare la professoressa, il numero di scarpe è 37, il colore preferito rosso, il suo hobby è ballare, poi la vedremo proprio all'opera, poi dice che il suo sogno nel cassetto si è realizzato, quindi su un po' che è abbastanza realizzata, su un uomo ideale, va bene, a parte Massimo, che voglio dire, un bell'uomo, l'abbiamo festeggiato negli 40 anni, c'è Ramazzotti, lei è proprio Ramazzotti in sette ore, il piatto che cucina meglio sono i primi piatti, quindi fateli invitare a casa da lei, che esisteva, ha un gesto che fa sempre, diremi se sbaglio o no, è proprio così, poi dice che la cosa che gli dà più fastidio sono le modellerie dei figli, però Giuseppe, poi, e va bene, lei dicono che è solare e che ballerò un più, no, vabbè, questo non si può dire, gli piace insomma essere molto precisa e dettagliata, insomma, Simonetta, tu ci sei, vero? Sì, è messa lì da oggi pomeriggio e sta là, vabbè, Giovanni, allora, io vi ho riscaldato prima, quindi adesso lei entrerà, si parte con l'applauso piano, l'applauso forte e le piacole, va bene? Grazie a tutti! Anche voi, perché, perché? solare piano che spingola in maniera giusta non si è capito non c'era la scalinata quindi devi andare a bene allora Simonetta ecco lui è arrivato adesso è il momento giusto tutto a fondo